Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili, ci avviciniamo a grandi passi anche alla sosta del campionato di Serie B che si fermerà dopo questo weekend per la Coppa Italia ma appunto c'è ancora un po' di basket di cui parlare, si è anche chiusa la finestra di mercato per gli spostamenti tra una squadra e l'altra, quindi anche ultimi movimenti anche se non è che ci siano state rivoluzioni copernicane appunto nel campionato che seguiamo più da vicino, appunto il campionato di Serie B per quanto riguarda il nostro girone, il girone delle martigiane, il girone C, sicuramente partita di cartello a Fabriano anzi a Cerredodesi perché al Palachimiva andava in onda il derby tra l'Aristo Pro e l'Alema Delica Aristo Pro che ha avuto la meglio in una partita sicuramente non tecnicamente scintillante diciamo da entrambe le squadre Fabriano ha controllato bene o male sin dall'inizio, il punteggio si è dilatato nella parte finale della partita ma Matelica comunque ha provato a dare battaglia, certo tre punti nell'ultimo quarto decisamente troppo poco per poter pensare di venirne fuori da appunto da Fabriano a livello di prestazione sicuramente un passo indietro per entrambe però Partita di rara bruttezza Paias dal punto di vista estetico, veramente una roba da metà al secondo quarto in poi non entrava niente, un disastro, quindi chiaramente ogni canestro pesava doppio perché quelle partite così e poi ti direi che non sono state due super difese, semplicemente mi è sembrata una partita in cui non entravano ma da una parte e dall'altra, chiaramente Fabriano ha tirato con percentuali da tre molto basse per i suoi standard che sono chiaramente molto alti e Matelica ha trovato un pochettino meno contropiede rispetto al solito contropiede che è l'arma per la quale Coach Trullo non può assolutamente fare a meno quindi chiaramente Gallo si è visto meno perché ha dovuto attaccare più a metà campo eccetera eccetera eccetera, si sono un po' messi a nudo i difetti che sappiamo benissimo la vigora voleva attaccare una difesa a metà campo fondamentali nel finale le giocate di Simone Centanni che hanno definitivamente indirizzato la partita molto importante insomma i suoi canestri e non solo mentre per tutto il resto della gara chiaramente l'X Factor è stata la prestazione di Jan De Fall che insomma era in doppia-doppia a fine primo quarto tipo una cosa del genere ha dominato in maniera proprio totale sotto canestri ha dominato e ti devo dire anche Pajan, cosa che lui non sempre fa ha chiuso anche in maniera decente al ferro, ha tirato molto bene i liberi cosa che non occupa mai nella vita perché a livello offensivo se non sbaglio 8 su 10 ai tiri liberi o qualcosa del genere quindi ecco lui è uno che tira sul 50-60% quindi già quei 4-5 punti in più che ha portato in una partita che è stata sempre intorno ai 7-8-6-10 punti di differenza un minimo di solco in più hanno sparigliato le carte anche perché comunque Berri ha trovato una giornata no Petracca una giornata men che meno Gullini una giornata da Gullini diciamo dell'anno scorso quindi dove sono una roba giusta o una sbagliata però comunque per Fabriano è un buon segnale perché l'hanno portato a caso contro una squadra che era caldissima oggettivamente perché la Vigol veniva insomma da un ottimo momento e quindi due punti fondamentali Sicuramente appunto quello che c'è di buono per Fabriano è che anche in una giornata sicuramente non dico tra le peggiori perché comunque non è che sia stata una brutta giornata però anche in una giornata no riuscire a portarla a casa in maniera tutto sommato tranquilla conferma che poi non c'è bisogno sempre di essere al 100% di tirare 10 bombe di 100 anni 17 arresti e tiro di Stanic per vincere le partite quindi sicuramente quella è la parte buona per Matelica ovviamente come abbiamo detto un passo indietro sicuramente ma rispetto a una squadra che stava overperformando sicuramente nelle ultime settimane Fabriano che quindi consolida comunque il suo terzo posto alla fine si è deciso di non intervenire sul mercato quindi la squadra sarà questa fino alla fine come anche Matelica sarà questa fino alla fine e ce l'aveva spiegato proprio Coach Trullo nel corso dell'intervista di qualche settimana fa Fabriano sempre più solido al terzo posto ora più otto addirittura sulla quarta e sulla quinta che sono poi Piacenza e Fiorenzuola che appunto procedono a braccetto anche perché queste squadre qua stanno veramente rallentando forti a livello di ritmo lì nella pancia del gruppone dove si è creata una mucchiata totale appunto dal quarto posto di Piacenza a praticamente l'undicesimo di Senigallia sono tutti in quattro punti e veramente può succedere può succedere di tutto Matelica non perde terreno resta a meno due da San Miniato che è uscita sconfitta parlando delle altre di Marchigiane nel gruppone appunto lì in mezzo c'era curiosità sicuramente per la prima uscita della nuova Iesi che ha cambiato volto invece sul mercato l'unica che è intervenuta in maniera pesante poco prima della chiusura appunto del termine appunto del 28 febbraio Simone Rocchi alla fine non si è accasato più né a Sala Consilina né a Salerno come avevamo detto ma a quanto pare sono sorti problemi all'ultimo secondo in queste trattative si è infilata Taranto all'ultimo minuto l'ha prelevato appunto la squadra pugliese è arrivato sotto canestro Varaskin del quale si era parlato per settimane è entrato anche Calabrese e quello lo sapevamo già si era chiacchierato negli ultimi giorni anche di una possibile uscita dei Filippini che alla fine invece non si è concretizzata sicuramente era curiosa questa partita c'era curiosità per la partita con Faenza anche per vedere gli assetti che avrebbe usato Coach Gizzinardi che ovviamente ha un'arma in meno sugli esterni ne ha una in più nel reparto ali lunghi quindi diciamo fondamentalmente chi ci ha perso a livello di minutaggio è stato sicuramente Ciconi Massi in questa perlomeno prima uscita vedremo se cambierà qualcosa un po' sul lungo periodo allora presto anche chiaramente insomma per capire la nuova dimensione di Iesi a per la caratura dell'avversario che è un avversario che si è allungato l'ultima di campionato e con un giocatore importante e alla fine alla lunga attritata questa Iesi nel senso che comunque sia Iesi ha tenuto botta un po' all'inizio abbastanza bene anche direi e poi alla fine il talento la fisicità la lunghezza del roster le svariate centinaia di bocche da fuoco da Pastore, Vico, Aromando Poggi insomma in giù sono veramente tanti e forti questi qua di Faenza meritatamente al secondo posto insomma no Paglia direi per quello che riguarda la General Contractor allora io ho molto chiara la rotazione degli esterni cioè appunto Merletto Marulli a creare dal palleggio con Gatti titolare e Calabrese cambio di Gatti Valentini cambio dei primi due insomma dei due guardi e questo è molto chiaro si è visto l'importanza di Gatti soprattutto nel primo quarto soprattutto proprio nei primi minuti del primo quarto dove lui sta in un angolo difende tira tre punti e spesso fa canestro ragazza del 2001 quindi insomma è anche con margini con margini importanti di crescita la rotazione dei lunghi onestamente è un po' più complicata vediamo Gizzi Nardi come se la come se la cava perché c'è Ferraro che deve giocare se Cicconi Massi che aveva fatto anche partite comunque importante in questo momento sembra proprio strano perché proprio nell'ultimo mese mese e mezzo veramente molto molto positivo sì o è un'assicurazione sulla lunghezza diciamo no una polizza vita sul proseguo della stagione però sai tu metti dentro lungo come Varaskin che è lungo importante l'anno scorso insomma una stagione straordinaria con Senigallia gli devi dar minuti è ovvio che può andare con diversi quintetti questo secondo me è una cosa interessante perché dipende un po' dall'avversario anche che ti trovi nel playoff quindi magari avere la possibilità di andare con un quintetto un po' più leggero che ne so Ferraro Varaskin 4 e 5 o uno magari più grande con Ferraro da 3 perché no Varaskin Filippini può avere un senso quindi credo che sia in quest'ottica l'uscita di Rocchi avevamo detto era insomma inevitabile per come si è conformato non per la resa del ragazzo ci mancherebbe e adesso vediamo perché secondo me ci vorranno due o tre partite fisiologiche di adattamento perché il cambio è stato importante sì probabilmente anche era anche il momento giusto per farlo nel senso che comunque perdere a Faenza non è sicuramente un dramma la prossima arriva con la partita in casa contro i Tigers dove comunque anche se il rodaggio comunque gli esi ha tutte le carte per poterla portare a casa quindi può essere questo anche un momento di passaggio giusto per farle questo cambio ovviamente poi ci sarà la sosta per la Coppa Italia che quindi darà una settimana di lavoro in più a Chizzi Nardi per sistemare tutto nel frattempo comunque la squadra resta lì in mezzo nel gruppone a quota 20 quindi ad oggi sesto posto ma abbiamo detto il quarto ha due punti sopra quindi resta perfettamente in corsa la General Contractor come alla fine resta in corsa anche la Luciano Mosconi Ancona Ancona che incappa nella quarta sconfitta consecutiva questa sicuramente la meno diciamo la più preventivabile perché appunto a domicilio contro Rieti che finora ne è persa una soltanto quindi Ancona che ha tenuto diciamo nel primo tempo poi è arrivata la mareggiata quando poi si accende la Real Sebastiani veramente dura da fermare da un lato come dicevamo ti partita che appunto puoi preventivare come sconfitta però quando iniziano ad essere quattro consecutive ecco che insomma resta l'allarme bello acceso in casa in casa Campetto soprattutto per come arriva allora come hai detto tu la sconfitta è chiaramente ampiamente preventivabile però la Luciano Mosconi dell'anno scorso andava Rieti a giocarsela questa qua prende 20 punti nel terzo quarto senza reagire ed è senza reagire la problematica principale perché comunque dici sai un paio di fiammate per tornare a meno 12 niente calma piatta una squadra che alla prima spallata si è resa insomma poi è ovvio che la fisicità straripante di Rieti comunque alla fine l'abbia fatta da padrone chi nell'altro ha fatto una super partita ma lui come tutti veramente una squadra di lunghi infinita tutti atletici si è vista anche la qualità secondo me di Paesano in uscita dalla panchina per me è un ruolo perfetto è un 4-5 che in uscita dalla panchina dalle squadre che vogliono vincere il campionato quello che poi faceva la poda rosa sostanzialmente è un ruolo perfetto per lui e quanto è mancato insomma quanto sarebbe stato d'aiuto a Luciano Mosconi visto che parliamo di un ex ma al di là di tutto questo Paia è un mese che Ancona non gioca in attacco e continua a non difendere in difesa quindi se prima o meglio senza banalizzare ad avere problemi difensivi ok sia di uno contro uno che con queste alchimie tattiche che spesso e volentieri non hanno la stessa efficacia che avevano l'anno scorso perché probabilmente sono cambiati gli interpreti e quindi questo magari però è un discorso che affronteremo a fine anno una volta tirate un poccatino le somme mi piace guerra in questo momento forse è più positivo nell'atteggiamento che guerra e carnavali oltre a Cili Beni guerra e carnavali sono quelli più positivi più costanti che ci stanno dando di più e che comunque continuano a fare le loro cose è in enorme difficoltà ancora nel ruolo di tre in questo momento perché Ciosca secondo me in maniera molto giusta è tornato a giocare i minuti che gli competono ovvero pochi non me ne voglia il ragazzo però questo non è il ragazzo che deve giocare 10-15-20 minuti in una squadra di alto livello come ancora un ragazzo che deve giocare 5 ecco sono d'accordo che il tre sia già in titolare però Francesco mi sembra ancora abbastanza indietro come normale che sia rientra da un tendine da kille e con l'assenza di Calabrese improvvisamente nel ruolo dello spot di tre manca un pochettino di qualità ecco il terzetto migliore a Panzini Carnovali Ciribeni che ti dà tanto in attacco ma ti toglie qualcosa in difesa e quindi sai l'equilibrio è un pochettino difficile da trovare Inversione più Gabri sta usando anche poco magari qualche quintetto magari più piccolo perché Ciribeni è vero che non è molto alto ma ha struttura fisica per poterci andare anche nel tre e magari visto che guerra sta rendendo molto andare in coppia con Panzini sugli esterni potrebbe essere una struttura magari da esplorare di più che invece ho visto raramente ancora può fare tante cose perché può cambiare sui pick and roll può con un quintetto più leggero può correre un po' di più però negli ultimi anni non abbiamo mai visto Ancona correre non è una squadra è una squadra che gioca a metà campo quest'anno gioca meglio a metà campo ma perché ha interpreti prettamente più offensivi l'anno scorso è una squadra che faceva veramente fatica a difendere e il sistema è rimasto esattamente lo stesso quindi probabilmente come abbiamo sempre detto il cambio di interpreti a parità di sistema è stato decisivo in un campionato che probabilmente è anche qualcosina in meno in termini di competitività rispetto all'anno scorso comunque siamo lì però secondo me qualcosina in meno c'è detto tutto sto discorso Paglia ancora domenica ha una parità molto importante con una squadra affamata di punti che è San Mignato e quindi un appuntamento da non fallire perché quattro sconfitte di cui ricordiamo insomma due del tutto impensabili insomma parliamo di Mattelica e parliamo insomma di Empoli di Empoli in casa quindi sai macchie importanti per una squadra che ancora non ha mai dato l'impressione di avere la solidità mentale per poter andare a prendersi le prime quattro ormai mi sembra evidente ma anche con un compiazzamento importante in vista dei playoff però e qua sempre per vedere il bicchiere in mezzo pieno neanche le altre come hai detto tu sembrano avere quella continuità di rendimento forse Fiorenzuola qualcosina in più in questo momento però si è rotto Giorgi e sembrava infatti che dovesse andare su Filippini però si è rotto Giorgi e questo è un minus importante e alla fine dei giochi potrebbe far quinto quella che sbaglia meno ecco però il calendario per ancora da qui in avanti non è dei migliori però vediamo sì la corsa è diventata un po' a ribasso sta corsa al quarto posto si sono un po' fermate tutte tra l'altro nel prossimo fine settimana Fiorenzuola riposa Piacenza ospita Fabriano e quindi mettiamo con un colpetto di Fabriano addirittura oltre che per la distopro veramente si aprirebbe una buragine andrebbe a più a più dieci sul quarto posto sul quinto posto diventerebbe veramente quasi blindato l'accesso nelle prime quattro ma soprattutto Ancona di fatto andando a vincere a San Mignato si ritroverebbe di nuovo quarta cioè in tutto questo discorso il marasma che stanno facendo un po' tutte le altre ha lasciato veramente la porta aperta a qualsiasi squadra come dicevamo appunto Ancona in trasferta a San Mignato tiene ed è una partita che guarda da vicino ovviamente Matelica che sta facendo la corsa su San Mignato per tornare al dodicesimo posto Matelica che invece ospita Senigallia nel prossimo fine settimana Golden Gas che viene da una partita a dir poco rocambolesca due supplementari per vincere contro Empoli che non è un buonissimo segno perché comunque Empoli squadra che comunque è al penultimo posto in classifica ma Senigallia molto acciaccata Senigallia che ha riscoperto valle tra l'altro a parte la tripla doppia di Mushi di cui abbiamo visto nei giorni scorsi un valle che queste ultime partite ci sta dando non vorrei che ripercorra un po' le tracce dello scorso anno di Calvini alla fine della fiera di necessità virtù Paia guarda c'è da dire anche che Pozzetti è uscito prestissimo per falli prestissimo insomma a inizio quarto quarto se non ricordo male per falli tra l'altro due fischi abbastanza dubbi insomma su Simone e quindi le rotazioni di Senigallia erano finiti erano quelli non esistevano più a una certa perché ricordiamo sempre insomma no Santucci no Giannini che era il giocatore preso per sostituire Santucci quindi di necessità virtù e valle ha risposto bene come ha risposto bene Gnecchi che onestamente ha tirato tanto e lui se tira tanto poi prima o poi ne mette dentro non è un tiratore diciamo da percentuali altissime però è un tiratore anche da come devo suggerire da momenti importanti delle partite no in tutto questo inserisci la tripla doppia di Muschi che mi sono strappati i capelli onestamente poi tripla doppia vera cioè tripla doppia addirittura secondo me manca qualcosa in termini di assist perché poteva essere più ampia se magari ecco entrava un canestro in più dei compagni una partita a Paglia Empoli un po' lenta nelle rotazioni hanno appoggiato molto la palla Muschi un po' sbasso lui ribaltava dall'altro lato trovava sempre qualche guardia piedi a terra canestro 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 assist 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 ma anche ti voglio dire ma anche quando si trovava in punto a fuori della riga da tre punti da playmaker raggiunto come spesso capita ai lunghi che però non tutti sanno passare la palla così Danilo fa molto bene Vallasciani per intenderci quel lavoro lì dall'altra parte Paglia ti voglio dire che Casella mi sembra sinceramente un giocatore di livello superiore rispetto a una penultima una squadra penultima in classifica così come Antonini che mi ha fatto mi continua a fare dall'inizio dell'anno una super impressione sta facendo un grandissimo campionato e questi sono due giocatori importanti su cui magari ragionare in ottica B1 B2 dall'anno prossimo però vittoria a Paglia fondamentale lo vogliamo dire per l'Hangold assolutamente insomma in casa così ridotti ai minimi termini tutto quello che di buono riesce a prendere Senigallia in questo momento è grasso che cola perché bisogna veramente tener duro nella speranza di recuperare qualcuno possibilmente per quando farà un po' più caldo e quindi insomma ben vengano i Gnecchi ben vengano i Valle che inizino ad avere quella sicurezza in più ormai Gnecchi dovrebbe averla acquisita Valle ha giocato adesso molto poco e oggettivamente aveva un po' deluso il suo rendimento adesso di necessità virtù invece quello che mi sembra un po' scomparso dalla rotazione o comunque molto limitato è Cerruti come credo sia anche giusto che sia un giocatore che può essere di contorno ti voglio dire in questa squadra di rotazione giustamente Paolo ci ha provato a farlo giocare però in questo momento è meglio andare sulle certezze quelle canoniche Musci Lemmi Pozzetti e poi da lì vediamo ti voglio dire Paolo paradossalmente sta sta faticando di più Neri adesso che invece avrebbe più spazio senza Santucci senza Giannini con appunto tutti questi problemi è salito di livello Valle mancherebbe lui potrebbe essere il go to guy di questa squadra a questo punto invece sta soffrendo di più il fatto di avere di non poter essere il secondo violino tra virgolette non riesco a capire perché è veramente un po' pasticcione il ragazzo è forte talento ne ha ragazzo però in questo momento veramente è una questione di flow proprio di come gli arriva la palla in mano perché veramente sembra voler andare a attaccare il canestro quando magari deve tirare o viceversa non è a suo agio però ogni settimana Paglia cambiano le gerarchie qua anche in attacco quindi sai è complicato la settimana scorsa c'era Giacomini che faceva la guardia questa domenica ha giocato molto più la playmaker io mi metto anche nei panni di Paolo onestamente non facilissimo insomma con la sfortuna che le ha colpiti però io credo che il go to guy di questa squadra sia sempre solo Marco Giacomini perché è da lì che si generano tutto con Simone Pozzetti a lanciare spesso le folate di Senigallia perché quando lui fa il canestro da tre poi i compagni si gasano proprio li vedono che questa squadra inizia a prendere fiducia basta un canestro di Simone domenica ne ha fatti quattro e vedi proprio come cambia la fiducia di questa squadra però va dove li porta Giacomini all'estate Senigallia della quale come avevamo detto la scorsa puntata aveva queste due partite un po' per togliere diciamo per non doversi più guardare indietro quella scorsa con Empoli e poi domenica appunto a Matelica perché appunto perdere domenica scorsa con Empoli sarebbe stato un po' un problema perché avrebbe lasciato riportato a meno sei anche Empoli dove già c'è Matelica a meno quattro c'è San Miniato e appunto insomma tenere anche non dico aperta ma comunque bisognava ancora continuare a guardarsi indietro vincendo con Empoli e magari riuscendo anche a sbancare il palasporto di Castellare mondo domenica allora Senigallia potrebbe stare un po' più tranquilla da quel da quel punto di vista guardando invece agli ultimi movimenti di mercato che ci sono stati poco prima della deadline del 28 febbraio in realtà non è che si sia mosso gran che si è mosso molto a Imola più che altro con la Virtus che ha messo dentro Vigori tra l'altro ex dell'altra Imola quindi ha cambiato ha cambiato sponda tra virgolette a cui avrebbe fatto tanto comodo quest'anno Vigori perché sono veramente piccoli lì sotto l'Andrea Costa però alla fine anche l'Andrea Costa ci ha messo le mani perché è uscito Pietro Agostini è ritornato Kevin Cusenza che già aveva fatto molto bene l'anno scorso c'erano state anche voci di smovilitazione tra l'altro dall'Andrea Costa invece alla fine c'è stato soltanto questo avvicendamento le altre sono state un po' più sonnacchiose c'è stato l'inserimento a sorpresa di Piacenza che ha messo dentro Beniavino Basso senza nemmeno presentarlo ha lanciato domenica in campo così all'improvviso tra l'altro un altro pivot che dà comunque di gioco prettamente interno quindi comunque un'alternativa per Cecchetti e giocatore che comunque da giovane ha una grande promessa si era fermato in questo inizio di stagione per motivi di studio aveva voluto preferire concentrarsi su quello adesso ritorna appunto in campo per una Piacenza che comunque resta bella ambiziosetta diciamo a questo punto e giustamente visto che occupa appunto il quarto posto in classifica per quanto riguarda la serie B anzi non la chiudiamo davvero la nostra finestra perché comunque ne parleremo anche con il nostro ospite di questa settimana che è un procuratore ma in realtà anche un ex giocatore notissimo ai più nel nostro basket ovvero andiamo a parlare con Simone Di Trani andiamo ad ascoltarlo il nostro ospite oggi abbiamo uno degli agenti del nostro basket ma anche soprattutto conosciuto per essere stato un grande giocatore delle nostre minors Simone Di Trani grazie di aver accettato il nostro invito intimissimo ciao a tutti un piacere allora Simone partiamo dall'inizio della tua seconda carriera quella appunto di procuratore che è arrivata dopo quella di giocatore quando e come è maturato questo passaggio dall'una all'altra ma io ho iniziato a giocare a palla canestro da ragazzino poi dopo mi ha sempre affascinato il ruolo del procuratore nel mondo della palla canestro e quindi già a 18 anni 19 anni quando ho iniziato a intraprendere la carriera da dal giocatore seguivo un po' i vari procuratori e cosa loro potevano dare ai ai giocatori no e poi durante gli anni comunque questa voglia di fare di fare la gente è sempre cresciuta e anche per questo motivo io poi ho smesso di giocare abbastanza abbastanza presto perché alla fine ho smesso da 33 anni in cosa ti ha aiutato a essere stato giocatore per essere agenti e che percorso si fa anche per chi magari qualcuno di quelli che ci ascoltano magari possono essere interessati a fare questo percorso qua perché magari per un giocatore delle nostre minor si può essere anche uno uno sbocco a livello lavorativo per darti qualcosa dopo la carriera di giocatore ma da da gente ti dico che secondo me la mia fortuna è quella di ragionare ancora da giocatore e quindi di medesimarmi nel giocatore e quindi anche di sapere cosa un giocatore e soprattutto un ragazzo giovane ha bisogno per iniziare la sua carriera da professionista e per il percorso adesso è cambiato rispetto a qualche anno fa perché prima dovevi far solo l'esame in federazione e questo ti poteva superando l'esame potevi fare il procuratore dalla serie A alle minors adesso invece devi fare l'esame CONI che è un po' più complicato sono domande non inerenti alla palla canestro ma domande principalmente di legge quindi è avvantaggiato chi magari ha studiato giurisprudenza dopo che hai passato l'esame CONI dove trovi agenti che vogliono farlo nel mondo del calcio principalmente o nella pallavolo dopo che hai superato l'esame CONI puoi fare l'abilitazione sostenendo l'esame FIP entrando più nella contemporaneità diciamo si sono chiuse proprio nell'escorsione l'ultima l'ultima headline diciamo per gli spostamenti di mercato che mercato è stato queste ultime settimane per quanto riguarda io sono contento che sia finita ieri il mercato da Serie B Serie A2 finisce venerdì ieri ho quasi stappato una bottiglia quindi no perché è un mercato molto complicato perché tutti cercano tutte le società cercano di trovare il giocatore giusto che possa come ti dicono adesso prendo uno solo e soltanto se va a migliorare la squadra se è più forte di quello che ho solo che non è facile perché nessuno libera un giocatore se non ha un'alternativa e quindi può essere un mercato cioè poteva essere un mercato solo di scambi o magari trovavi uno svincolato ad esempio adesso Piele Livorno che è l'ultima messa dentro D'Ercole e la 2 c'è da aspettare ancora un paio di giorni al di là del del mercato in sé per sé abbiamo visto tra le nostre si è mossa forte Iesi le altre sono rimaste tutte più o meno in attesa però in generale che basket marchigiano stai vedendo da fuori tu che ovviamente lo conosci bene per esserci ruotato per tanti anni certo a me spiace che nelle marche non ci siano più realtà come Montegranaro o Iesi quando faceva la 2 l'anno scorso l'ha fatta Fabriano per un solo anno alla fine adesso c'è Pesaro che bene o male c'è sempre c'è sempre stata adesso le marche hanno squadre in serie B sicuramente di prima fascia come Fabriano come Iesi e Ancona poi Senigallia fa sempre la sua squadra sono bravi perché alla fine spendendo poco riescono sempre a ottenere dei buoni risultati vedi l'anno scorso con la semifinale e adesso c'è comunque Mattelica che sta provando dopo un inizio difficile ad agganciare un posto ai playoff per provare a fare il colpo e magari a eliminare la quinta o la sesta però le marche io ci ho passato 4 anni è sempre una sono state tutte esperienze positive sia la prima a Porta del Pidio che avevo 21 22 anni fino ad arrivare all'ultima a Montegranaro e io consiglio sempre di andare a giocare nelle marche perché si sta bene e perché comunque ci sono delle realtà che vivono di pallacanestro questo poi dopo ci torno sulle singole esperienze marchigiane prima ti volevo chiedere una cosa non so se puoi riesci a dircela magari una trattativa che ti è rimasta non nel cuore però perché magari ti ha dato una particolare soddisfazione che hai avuto qualcosa di particolare la vuoi ricordare magari tra quelle che hai tenuto in questi anni di movimenti in tendi nelle marche oppure in generale in generale no no in generale in generale ma la più recente che mi ha dato una gran soddisfazione è sicuramente il trasferimento di Anthony Morse in Corea perché sono riuscito a soddisfare il suo desiderio di andare a giocare in Asia in poco tempo perché alla fine lui era in Israele è tornato a casa a metà dicembre e a inizio gennaio è partito per Seul e quindi e quindi ti dico quella sicuramente è stata una trattativa anche abbastanza complicata perché hai dovuto imparare il coreano è un no però nel contratto c'è 20 pagine scritte anche anche in coreano non per quello perché poi le regole sono completamente diverse rispetto rispetto a noi vedi il contratto non è non è un contratto è un contratto standard per loro ma completamente diverso dai nostri capito però se devo dire che ne ho una ti dico questa sicuramente Gabri Simone guarda si parla tantissimo si cerca di capire tantissimo come sarà la prossima B1 e B2 si parla ancora non c'è niente di ufficiale uno straniero due stranieri il livello eccetera come te la sei immaginata sia la prossima B1 che la prossima B2 questa domanda me l'hanno già fatta molti giocatori io dico che adesso non si sa ancora niente di ufficiale sembra che non ci saranno gli under o comunque ci sono solo degli incentivi per chi utilizzerà gli under sia in A2 che in B che in B nazionale io mi immagino un A2 e anche un A2 e un B nazionale dove le società faranno degli investimenti importanti perché dovranno dare continuità all'ultima stagione quindi chi quest'anno ha speso e vuole a tutti i posti restare in A2 continuerà penso questo questo percorso e la stessa cosa per quelli che sono in B nazionale lo straniero dovrebbe essercene uno comunitario in B nazionale e poi restare con i due stranieri con i due visti per la A2 campionato interregionale non so il campionato interregionale non so immaginarmelo oggi perché mi sembra che ci siano poche promozioni e quindi poi se uno finisce interregionale deve fare i conti anche con magari il budget e se ne vale la pena spendere per arrivare alla promozione o no parlando invece un pochettino di campo di giocatori mi fai anzi aspetta non te la voglio far troppo difficile perché sennò ti posso dare un aiuto magari ai tuoi competitor ci puoi segnalare dei nomi di giovani o non giovani necessariamente che da tenere d'occhio per il futuro anche tuoi assistiti piuttosto che di altri insomma che dici teniamoli d'occhio sia per la 2 che per la serie B B1 che sia perché secondo te possono avere un margine di miglioramento importante allora ti dico solo i miei così non do non do non do non do non do infatti non volevo rischiare sta roba qua allora secondo me è un giocatore molto interessante è Gabriele Tarallo che è il 2004 di di Cantù che l'anno scorso era partito poi in quintetto è una partita Fabriano anche ha giocato 5 minuti poi era quella partita in cui Fabriano vinse con Cantù e lui penso che sia un prospetto interessante che ha fatto anche è stato anche nel giro della 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 nazionale e quest'anno ha fatto la next gen con con Pesaro e poi un altro giocatore interessante secondo me è Ghigo che è un il ragazzo che gioca già in serie B un ruolo importante a a Borgo Manero invece quali sono le caratteristiche principali scusa già scusa già fermati noi abbiamo anche librizi però se mi chiedi dei giocatori che meno conosciuti non ti posso non ti posso non ti posso non ti posso non comunque gioco e invece quelle che sono secondo te le caratteristiche principali che un buon agente deve avere sia per i propri assistiti che per interfacciarsi sul mercato ovviamente secondo me devi essere disponibile è la prima cosa quindi essere di aiuto a ragazzi quando hanno un problema perché poi principalmente i giocatori ti chiamano appena hanno un un problema e tu ti devi attivare per per risolverlo poi parlando dei giovani devi essere bravo a immaginarti un giocatore un ragazzo giovane di 18 anni in prospettiva come può essere a 22 23 queste sono le cose le cose principali poi dopo lascia stare tutto il resto per quanto riguarda trattative contatti certo è importante anche anche quello parlando principalmente perché poi rappresentare dico sempre che fare il procuratore a un ragazzo di 18 è diverso che farlo a uno di 30 le esigenze sono sono logicamente diverse come è diverso fare il procuratore a un ragazzo italiano o fare il procuratore a un americano come abbiamo detto simone lunga esperienza da giocatore nonostante a livello esteriore l'età è già inizia a farsi sentire classe 1983 come il sottoscritto ma potete vedere la differenza appunto a suo favore tante esperienze dicevamo nelle Marche quattro nei passati quattro anni io ti chiedo un ricordo di ognuna di questa partendo appunto dalla prima da Porto Sant'Elpidio dove arrivasti giovanissimo poco più che vent'anni Porto Sant'Elpidio sono arrivato e io sono andato a cercare sulla cartina dove fosse quando ho ricevuto la telefonata perché proprio non avevo un'idea per localizzare Porto Sant'Elpidio e adesso è un posto che io porto veramente nel cuore per le amicizie non per l'anno che è solo passato perché poi ho anche vissuto anche nell'esperienza a Civitanova il ricordo di Porto Sant'Elpidio è positivo perché io sono arrivato in una situazione in cui la squadra stava andando male avevano appena cambiato allenatore aveva firmato da poco Marco Schiavi e abbiamo fatto un giorno di ritorno se non ricordo male di 12 vinte e tre perse mi sembra quasi arriviamo ai playoff per me è stata la stagione in cui un po' anche di trasformazione perché l'anno prima giocavo più da playmaker e invece e farlo a diciamo in Serie B in una squadra di medio alto livello visto che fino a quel momento avevo giocato in squadra per salvarmi poi ho davanti poi ho abbandonato le marche per qualche anno e sono ritornato a Recanati dove il ricordo è la prima volta che ho incontrato Giuseppe Pierini nel suo studio che ero venuto per firmare e poi io e te eravamo a fare la serata mi ricordo e lui mi dice domanda ma tu sei un playmaker e io non gli ho risposto sì ok e ho detto ma anche tipo no e infatti poi dopo anche da lì giocavo principalmente da due però è stata una stagione super perché poi abbiamo vinto il campionato e non abbiamo perso quasi mai siamo arrivati in finale di Coppa Italia e poi quell'anno lì io sarei rimasto molto volentieri a Recanati in una categoria superiore c'è stato il il cambio di regolamento con 5 senior e 5 under considera che praticamente loro avevano già sotto il contratto Silvestrucci mi ricordo Oscar Chiaramello e il buon Attila e quindi avevano preso solo due senior e io mi ero spostato e sono andato a Civitanova anche perché mi ero iscritto all'università ti sei spostato poco di qualche chiove vivendo a Sant'Eltidio anche perché mi ero iscritto all'università a Urbino l'anno prima e quindi cerco di restare in zona così almeno finisco l'università la magistrale Civitanova secondo me abbiamo fatto una stagione anche lì super perché non eravamo da primi posti da primi due o tre posti e siamo arrivati in quarti abbiamo vinto in semifinale contro Montegranaro e poi dopo abbiamo perso contro Chieti che era la squadra più forte del campionato poi l'anno dopo dovevo restare ancora a Civitanova mi è arrivata un'offerta super da da 100 e quindi sono sono andato via e però poi sono ritornato a Montegranaro per finire la carriera ma sapevo che era il mio ultimo anno perché quando ho iniziato la stagione a Montegranaro Montegranaro voleva firmarmi il biennale e ho detto no no facciamo un anno poi vediamo ed è stata una bellissima stagione a livello di di persone di compagni sono stato sono stato benissimo è stato contento di aver finito con quel gruppo e gli ho ringraziati uno a uno all'ultima partita per la stagione che che avevo vissuto insieme a loro purtroppo l'epilogo poi Serie B quest'anno ne vincono due quell'anno là ne vincevano tre è veramente complicato vincere e il livello era perché poi quando arrivi a Final 4 c'hai Forlì Udine e l'Eurobasket noi secondo me siamo arrivati scarichi dalla serie con Pescara che comunque era una squadra che ti faceva giocare male ti portava via tante energie fisiche mi ricordo che noi abbiamo finito gara 5 il mercoledì a mezzanotte alla Bombonera e il venerdì mattina eravamo in Pullman per andare a Montecatini io mi ricordo quell'ultima conferenza stampa tua Simone a Montecatini è stato un momento per me tremendo nel vederti quanto ci stavi male dopo quella sconfitta non ci hai ripensato più di rimetterti le scappette no l'anno dopo è stato un anno che ho ricevuto più offerte come sempre quando dici smetto no però me la sono proprio gustata se ti dicono solo perché poi uno vede solo la partita un'ora e mezza di partita ma poi a me piaceva tutto il resto a me piaceva la cena con i compagni il viaggio in Pullman il viaggio in Pullman quando fai il viaggio da Montecatini che torni a Montegranaro che sai che è la tua ultima volta che sei in Pullman con i tuoi compagni di squadra te lo godi ancora di più sempre magari soffrendoci un po' perché dici cavolo mi piace però è l'ultima volta no no non ci ho mai pensato ho sempre cercato di stare lontano dalla pallacanestro giocata di non andare considera che io l'unica volta che ho giocato dopo quella partita di Montecatini nessuno ci crede ma è così è stato al memoria di Attilio che mi aveva chiamato Lollo Andreani mi ha detto guarda di giocare ho detto Lollo ma che dici ma no al memoria di Attila ho detto ok al memoria di Attila ci gioco faccio un'eccezione no poi dopo quell'anno lì considera che io mi ero trasferito e abitavo a Lecco con mia moglie così quindi in zona zona ma anche non proprio vicino ma rivigevano che faceva la serie C c'era la scuola forte la stessa pavia che faceva la C così ma l'hanno chiamato non vengo perché poi anche se io faccio le cose così tanto per non le faccio bene quindi o faccio il professionista oppure è meglio se sono solo dannoso per voi io vi ringrazio Simone per la chiacchierata e adesso dai respiri ancora per qualche giorno col mercato di A2 e poi si respira un po' di più sì dai poi c'è la ci sono le finali di Coppa Italia è tutto in discesa fino al mercato fino a maggio diciamo un po' si riprende grazie Simo grazie a te ciao 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 ed era Simone Di Trani appunto al nostro microfono scendiamo in serie C in gold non si è giocato nello scorso fine settimana per appunto il turno di riposo si torna in campo in questo nel fine settimana che verrà dove con parte insomma il rush finale della regular season mancano sei partite al termine si riparte con la Virtus sempre in prima posizione più quattro su Osimo più sei su Bramante ma quella che conta come distanza è il più otto sul quarto posto perché appunto sono le prime tre quelle che si portano poi alla fine il vantaggio del fattore campo fino in fondo Virtus che riceve domenica Todi Todi che è stata una delle poche a muovere qualcosa forse l'unica di fatto prima della deadline del mercato ha messo dentro Giovanni Loperfido guardia che ha girato un po' nelle minors tra Abruzzo Puglia e Basilicata un giocatore che allunga le rotazioni sugli esterni non dovrebbe essere uno stravolgimento insomma per Todi che comunque testimonia di voler provare a fare i playoff come si deve anche perché poi sono tanti 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 hanno tutta questa batteria di ragazzi atletici cara Petrovic non me ne voglio on v dell'altro ragazzo straniero hanno questa batteria di ragazzi atletici un po' tre un po' quattro un po' ibridi che comunque sono tanti sì ma ci sta che hanno messo dentro una guardia un po' più pura Todi onestamente è una signora squadra una signora squadra adesso vediamo se rientra Bergamo che nell'ultimo due non ha giocato però l'unica che si è mossa onestamente un test importante in casa quindi chiaramente a favore del pronostico però non da sottovalutare anche perché non bisogna sbagliare più perché poi tra due settimane c'è Bramante e quella sarà già non ti dico decisiva per capire se primo secondo o terzo ma poco poco ci manca sì perché appunto ci vediamo un calendario abbastanza in salita da qua alla fine e soprattutto in questo fine settimana è un turno molto favorevole agli inseguitrici Osimo ospita San Benedetto in casa e dovrebbe essere più o meno una formalità per la Robur Pisaurum sicuramente ha un turno favorevole contro la Chemi Bassisi in casa Assisi l'altra che si è mossa ma in uscita perché appunto ha rilasciato anche Peikinov segno che comunque stiano un po' tirando i remi in barca diciamo in in Umbria d'altronde meno sei dal dodicesimo posto con sei partite da giocare davvero durissima a pensare a una rimonta forse di queste quella che ha un impegno un po' più complicato è il Bramante che comunque deve andare a Foligno sul campo della Lucky Wind che negli ultimi anni ha fatto sempre dei brutti scherzi al Bramante e che comunque in casa è una squadra assolutamente da rispettare che va a ondate che va a molto di talento anche il derby con Todi l'ultima insomma al momento vinta poi persa poi rivinta poi ripersa che hanno 80 punti nelle mani belli sereni però non così soli in difesa come magari occorrerebbe per essere una squadra di alta classifica però baci un po' giocare a Foligno tra due domenica ci andiamo a noi quindi insomma Foligno un po' arbitro anche del del quadramento dei primi posti playoff ma ci sta adesso sono tutte partite pesanti che scottano per Osimo onestamente calendario molto favorevole l'unico scivolone che potrebbe potrebbe starci è quello a Montegranaro partita che insomma paradossalmente lì potrebbe segnare uno strappo decisivo per arrivare magari allo sconto diretto Osimo Civitanova della penultima di andata al Palabellini diciamo che con un'idea chiara abbastanza ancora complicato molto prematuro fare i calcoli però iniziare a pensarci a 6 giorni dalla fine gli accoppiamenti questo questo assolutamente assolutamente sì dietro la classifica si sta un po' sgranando anche se comunque sono tutte molto vicine ci sono diversi incroci e appunto ancora ben 6 partite per definire tutto quanto abbiamo definite le 12 perché appunto come abbiamo detto Assisi si è un po' stagliata San Benedetto già retrocessa matematicamente però ecco gli accoppiamenti e come si finirà bisognerà poi vederlo con queste partite appunto che verranno al contrario invece in Serie C Silver si è giocato nello scorso fine settimana e non si gioca nel prossimo è stato un weekend che tutto sommato non ha cambiato granché soprattutto nella parte alta della classifica Loreto che continua a viaggiare spedita con la vittoria a Falconara assegno anche tutte le altre forse lo squillo più importante è quello di di Re Canati che è andata a vincere sul campo di San Marino e è stata col senno di poi anche molto importante perché continuano a vincere anche le altre perché Perugia ha sfruttato il turno sul campo sul campo di Ascoli Gualdo invece ha fatto anche anche lei un bel colpetto in casa contro la Bartoli la Bartoli Mechanics si è si è accesa diciamo questa corsa devi dare il settimo posto perché adesso non stanno sbagliando più niente queste tre o quattro che sono coinvolte beh anche perché sai rovinare una stagione per un paio di scivoloni non penso che nessuno ci voglia ricadere decisivo subito Paiola per Re Canati Paiola con 23 mi parla 23 punti insomma comunque tre triple al terzo quarto che l'hanno un po' spaccata tra l'altro con Chiorri Paiola la pericologità di questa Re Canati sugli esterni è importante insomma di quella nei lunghi già lo sapevamo il risultato come dici tu un po' no a sorpresa però importante è sicuramente la vittoria la vittoria di Re Canati chiaramente perché giocava a San Marino campo mai banale e gamberini nuovi io ammetto di non averla vista però sai che do sempre palli oppure bravo ciccio perché questo lo chiederò ciccio magari prossimamente bravo ciccio in difesa mi sembra abbastanza complicato questo nella vita certo questo nella vita l'altra parità è stata importante la vittoria di Gualdo che avevamo detto all'inizio dell'anno essere un po' una squadra ambiziosa comunque talentuosa ha avuto un rendimento un po' così così ultimamente molto meglio sia Gualdo che Perugia complicata adesso capire come va a finire anche perché sono state risucchiate anche San Marino e Metauro in questa sono San Marino è terza con 28 punti poi sono in 4 a 26 e di queste 4 una resterebbe fuori diciamo quindi è bella tirata adesso è bella tirata e al netto insomma di Loreto Pesaro e Urbania che ormai Loreto Pesaro e poi Urbania direi che tutto il resto è ancora abbastanza sul piatto lì da vedere insomma vediamo cosa viene fuori perché alla fine era parita male la Cissifer ma qualche gioia ce l'ha fatta danno sì poi risultato importante quello di Urbania che ovviamente in casa era favorita contro Porto San Giorgio ma che scava un po' il solco lì in mezzo se Porto San Giorgio voleva tenersi aperta una chance di rientrarci in questa corsa adesso con questo K.O a meno 6 da queste qua che stanno correndo adesso per davvero sembra veramente complicato vedere rivedere nella corsa per i sei posti diciamo che salgono diretti in C1 poi comunque ci saranno ci saranno i playoff barra play out tra l'altro Porto San Giorgio che ha cambiato un altro giocatore è arrivato un altro staniero tale Palavra che ha giocato un po' nel centro-sud d'Italia nelle nostre minors quindi continua anche questo Andi Rivieni in casa Virtus le altre restano un po' tutte lì sotto una vittoria per Tolentino che appunto ritorna a correre con la vittoria interna su su un vertile che era abbastanza comunque preventivabile e poi c'è la corsa ad evitare quell'ultimo posto che mi sembra invece francamente dimenticabile Sì su quale possiamo tranquillamente soprassedere nota di colore ma fino a un certo punto i venti di Katakowicz sappiamo che il ragazzo insomma che ha fatto veramente un decimo di quello che probabilmente poteva fare per gli infortuni e vederlo insomma tornare a far venti anche se in C-Silver sicuramente ci fa piacere noi che abbiamo conosciuto insomma assolutamente sì e siamo arrivati in coda anche questa puntata di Markabili se ci state guardando siamo sul canale 75 del Digitale Terrestre su FM TV che ci ospita appunto ogni settimana sul sul suo canale televisivo un ringraziamento a Basket Mark e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme ovviamente ci trovate in video anche su YouTube dove trovate anche tutte le puntate precedenti versioni podcast al solito invece su Spotify e su Apple Podcast siamo arrivati in coda anche a questa puntata quindi l'appuntamento è alla prossima sempre qua su Markabili Pierini il tiro e il canestro di Artiglio Pierini il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area di Artiglio Pierini 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 di Artiglio Pierini